se qualcuno ruba un fiore per te se qualcuno ruba un fiore per te sotto sotto c'è impulse nuovo fiammante impuls tentation parfum deodorante alemania presenta krafen contro krafen è qui krafen al di coca ecco krafen al cacao a te tocca giovicare scegli il krafen che ti pare pizzette pizzettine catari qual è il vostro segreto se ho fame me la fate passare se non ho fame me la fate venire pizzette catari almano la fame stuzzicano l'appetito pizzette catari ora v'ho capito galetti hamburghesi vale espluga perché si presentano bene sono leggeri digeribilissimi e danno un trucco di classe al menù galetti hamburghesi vale espluga perché perché sono giovanissimi veloci da cucinare ecco fatto teneri ma i grassi diversi dal pollo galetti hamburghesi perché 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 a lei ci piacciono sì certamente e allora ma attenzione non è galletto hamburghese se non ha lo scudetto rosso vale espluga l'iso form casa pulito sicuro perché disinfetta puoi usarlo ogni giorno sui pavimenti sulle piastrelle su tutte le superfici lavabili l'iso form casa pulito sicuro perché disinfetta leggere attentamente le avvertenze mago g mago g mago g e adesso ci sono anche i crackers ma i mago g e g come galbusera g come galbusera frumens i crackers di galbusera croccanti con gusto croccanti con gusto ehi raccogli i mago punti e scegli o la blusa felpata o la biscottiera in ceramica galbusera galbusera il mago della bontà come sei dimagrita ma cosa hai fatto Laura ma cosa hai fatto ma cosa hai fatto ma cosa hai fatto Laura ecco cosa ha fatto Laura con l'impasto e i consigli dietetici ha perso i suoi chili di troppo e con gusto cacao e il nuovo cappuccino ma cosa hai fatto ma cosa hai fatto Laura Slim Fast è in farmacia fallo anche tu ma Carla il tuo forno non è pulito guarda hai ragione mamma eh sì qui ci vuole nuovo fornette una spruzzata una passata e adesso guarda stupendo ora si è pulito provate anche voi nuovo fornette Carl Heinz Rummenighe campione di Baviera Heinz Rummenighe che campione venite qui vi do io il campione di Baviera anche a me piace il famaggino d'oro Grunland che famaggio ragazzi la compressa dolce è ma lo zucchero dov'è non c'è zucchero sai qui buona è vivident così vivident è dolce è senza zucchero per me un fresco brivido per te vivident la dolce compressa senza zucchero che ti dà un brivido di freschezza vivident compressa e vivident chewing gum approvato dall'associazione medici dentisti italiani volo volkswagen lascia lunga in fatto di spazio per i disturbi amoroidari ricordati di tronotene tronotene combatte il dolore il bruciore il prurito dalla esperienza Abbott tronotene impomata e insupposta leggere attentamente la verdenza sigma signora convenienza signora convenienza che si sa ti offre sigma sulla qualità sui prodotti sigma e su quelli di marca nel mio negozio sigma trovo la qualità il prezzo e il servizio il mio negozio sigma fiducia a portata di mano sigma signora convenienza il formaggio signora l'invernicina sì l'invernicina prego del vino fresco gustavo subito signora l'invernicina troppo buona per resisterle lo sei signora casio segna una nuova era data bank l'orologio con 50 unità di memoria che ricorda numeri di telefono appuntamenti e date importanti ti sei ricordato casio data bank computer da polso nel corso dei prossimi mesi scoprirete in più di un'occasione la comodità di avere vicino un tv color portatile sofisticato come questo per godervi i mondiali di calcio le regate di azzurra chiedete il vostro tv color algol a chi per prima in italia ha prodotti portatili con le tecnologie più raffinate a Brion Vega ti piace? ehi mamma stavolta hai fatto un minestrone in scatola ma dai sì in scatola già pronto è la grande novità della Knorr non ci credo neanche cucina pronta Knorr una bontà incredibile c'era una volta un vecchio giocattolaio che aveva tante bambole dolcissime con grandi e tenere occhioni e morbide braccia che chiedevano solo coccole erano tante e diverse fra loro ma lui le amava tutte e a ognuna diceva sempre sei tu my love ma alla fine ne aveva così tante che in casa non sapevano più come fare così un bel giorno di sole le chiamò tutte attorno a sé fuori c'è un mondo bellissimo disse loro dove vi attende una mammina specialissima che vi amerà per sempre e come faremo a sapere chi è? chiesero le bambole ma con il vostro naso rispose lui infatti la prima che vi bacerà sul nasino a patata sarà la vostra dolce mammina per sempre così adesso c'è un my love chi cerca proprio una mammina come te va all'incontro dalle un bacino sul naso e my love sarà il tuo amore per sempre my love amor mio tra le carte igieniche a due veli scottex vince in convenienza perché ha moltissime carte ma chi la sceglie lo fa anche perché è morbide 10 piani di morbidezza 10 rotoli di convenienza una grande scoperta per la cura della pelle le nutritive di Vichy ricche di elementi vitali ed energetici nutrienti ma molto leggere le nutritive sono la nuova generazione delle creme nutrienti ed è finito il tempo delle creme grasse delle pelli lucide le nutritive si mettono fin dal mattino e la pelle liscia e ben nutrita è pronta a vivere la sua giornata nutritiva 1 per pelli normali o secche nutritiva 2 per pelli molto secche una novità Vichy la cottura a vapore mantiene tutto sostanza e sapore e tonno alco lo sai è cotto tutto a vapore lo sai che alco il tonno alco ricco di morbidezza ha un sapore che si scioglie in bocca tonno alco cotto tutto a vapore un sapore che si scioglie in bocca è il mese del salone di torino e reno vi propone speciali condizioni di credito oppure ascoltate una grande offerta anzi grandissima comprate oggi super 5 o reno 9 o reno 11 e per tre anni non dovrete più spendere una lira niente né tagliandi né ricambi né mano d'opera e neanche i lubrificanti super 5, reno 9 e reno 11 tre anni senza spendere una lira no la benzina è a carico vostro andiamo Glenn Grant ma sicuro Glenn Grant colore chiaro gusto pulito semplicemente perfetto Glenn Grant malto da intenditore sì, Milano la città dell'amaro Ramazzotti l'amaro di chi vive e lavora l'amaro della vita di una giornata che non è mai finita sì, l'amaro Ramazzotti è nato qui 170 anni fa e che ancora oggi porta dovunque questa Milano da vivere da sognare da godere questa Milano da bere Certe serate non hanno sapore ma parola di gelataio qualcosa si può fare tu prendi solo il latte, le uova, lo zucchero per squisiti gelati e tanta buona frutta per freschi sorbetti mi riempi il cestello e a tutto il resto ci penso io con la mia palla speciale manteco, manteco pochi minuti ed ecco il gelato morbido, ricco cremoso guarda che felicità il gelataio Simac fa subito festa il gelataio il gelataio uno dei gioielli di casa Simac Gillette ti ha già dato una rasatura più profonda adesso ti dà una rasatura più dolce Gillette Contour Plus con Lubra Strip scivola più dolcemente sulla pelle una dolcizza mai provata Gillette Contour Plus una rasatura più profonda una rasatura più dolce come ViciNet scioglie questo guscio che è di calcare così ViciNet scioglie tutte le incrostazioni e le impurità del water quelle che si vedono e quelle che non si vedono così io che usavo ViciNet ogni tanto solo per togliere il calcare poi ho incominciato ad usarlo più spesso per una garanzia di igiene oggi uso ViciNet tutti i giorni mi sento più tranquilla ViciNet pulizia e igiene garantite ogni giorno quando i mulini erano bianchi questa storia comincia con A abbracci una storia che sa di tenerezza dal tenere incontro di due bontà abbracci con panna e cacao mangia sano torna all'amatura con gli abbracci del mulino bianco Barilla amore ti ho mandato questa cassetta perché voglio offrire sì? mi stai ad ascoltare? sono qua sotto volevo solo dirsi che amica presenta amica time il primo quotidiano settimanale per la donna da oggi per sapere cosa è successo nella settimana basta un attimo di tranquillità ci vediamo più tardi è brutto sporco ci vorrebbe la forza di un gigante eccola è nel nuovo Mastro Lindo ancora più potente con la forza di un gigante il pulito è più brillante guarda nuovo Mastro Lindo scioglie lo sporco grasso in poco tempo senza strofinare e il pulito splende fammi provare è vero è pulito mi ci vedo il pavimento brilla che forza nuovo Mastro Lindo con la forza di un gigante il pulito è più brillante il nuovo Brekis lo scelgo distinto e poi Brekis ha il grammi sto carni e il grammi sto pesce e le nuove ricette ancora più biotte per gatti gatti Brekis un piacere felino ogni giorno ogni tuo piatto diventa una ricetta sapore ma con un segreto oggi Brodostar ha un segreto in più l'offerta tutto sapore Brodostar ti regala mezzo chilo di pasta delle migliori marche ogni due confezioni da 20 dati Brodostar tutto sapore pasta in regalo tutto sapore di casa mia Italo aspetta ma già la notte com'era il concerto? grandioso al rock non si comanda mamma ciao scusa sai c'è un po' di roba da lavare e soprattutto questa mi raccomando che disastro ma qui ci vuole un miracolo e tu prova a farlo quando le macchie sono vecchie e i colori chiedono cura per tornare brillanti fidatevi di biopresto lavatrice perché con biopresto il bianco ritorna bianco e il colore resta colore mamma dov'è la maglia del concerto? era troppo sporca l'ho buttata via buttata via? oh no Italo hai visto la mia maglia? oh mamma biopresto lavatrice bianco bianco colore colore bravo ma riesci a succhiare una frugioi senza masticarla? puoi scommetercelo alle morbide frugioi tu resistere non puoi devi 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 masticarla frugioi gommose la frutta ti stai preparando a conquistare Parigi? certo perché? hai cambiato profumo non è un profumo è il mio nuovo kamai chic mi aiuti? con un sapone così bello bello è unico contiene glicerina senti che carezza morfi morbida come la tua pelle Parigi ci aspetta lasciamola aspettare kamai chic il pizzico di fascino in più oggi kamai è classico e chic mamma mamma la pilone guarda oh so straga oh che peccato sai lui si macchia sempre e io devo candeggiare ma tu sbagli candeggio io uso acce e guarda la mia camicia la candeggio sempre con acce e dopo tanti anni è ancora perfetta perché acce smacchia a fondo e senza danno acce smacchia a fondo senza strap anche con fresco profumo mmm appetitoso vero volete saperne di più allora vi ci vuole proprio io in cucina ogni settimana sette rubriche un super menu la cucina pratica con tutti i trucchi del mestiere un corso filmato la cucina regionale e internazionale e per completare le vostre conoscenze sulla piccola e la grande cucina una guida dei vini è in edicola questa settimana il numero uno con il raccoglitore in omaggio è molto semplice io in cucina da mangiarselo così occhio la mia nuova Filco automatica silenziosa lava e asciutta e sono subito pronta con Filco non perdo mai un appuntamento lava asciuga Filco nel futuro non si stende ma 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 cos'è ma 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 che c'è crack patatine che fa con un gusto così manco manco e ketchup crack il patatine ti fa manco 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 e ketchup crack così nuovo che incontrarlo è un piacere più di prima è una gioia da vedere tu lo sai è il sapore più bello yoga tanto di yoga tanto di yoga tanto di amerai il suo mondo fantasioso l'amerai perché adesso è più gustoso è il sapore il sapore più bello yoga tanto di yoga tanto di grazie cose buone dal mondo ehi ciao è la tua sì è la nuova Ford Escort sai quella col motore ah hai vetri elettrici certo però è il motore e dentro il sedile posteriore frazionato specchietti regolabili dall'interno anche e il motore anche il contagio è equipaggiatissima e costa solo a proposito che dicevi del motore che è ecologico ecologico nuova Ford Escort nuovo motore ecologico un'auto dall'aria pulita Ford qualità in azione contatto a tu il profilattico più sottile del mondo sicuramente contatto a tu per sentire quello che non si può dire nei momenti più duri e impegnativi quando è indispensabile la massima concentrazione bisogna essere in piena forma per questo fin dal mattino è importante alimentarsi bene Nutella è con te con tutta l'energia del latte e delle nocciole con tutta la sua bontà pane e Nutella energia per fare e per pensare la terra era buona i miei studenti erano felici lì sarebbe rinato il bosco a un tratto vidi che la strada aveva ceduto lassù c'erano dei cavalli in pericolo amaro montenegro lo riconosci subito ha un sapore un sapore che non ti sbagli amaro montenegro sapore vero sanio video nel video guardi il programma controlli l'altro porti a tutto schermo l'immagine che conta questo è sanio con video detector cambia con sanio il tuo modo di guardare la tv sanio i televisori con video detector prontissima l'insalata già pulita e già lavata che devi solo condire alla standa è arrivato il giallo una linea di tanti prodotti diversi a prezzi convenientissimi li riconosci subito perché hanno una confezione semplice e gialla corri alla standa cerca i prodotti gialli sono il massimo della convenienza standa la casa degli italiani ma cosa fa con quell'arnese ostacola il traffico devo dipingere una parete grande ci vuole il pennello grande non ci vuole un pennello grande ma un grande pennello cinghiale cinghiale la grande marca vivi la lana tanto c'è lì lì una vera e propria cura di bellezza per la lana e i capi delicati questo è il tuo regalo? sì ma dell'anno scorso vivi la lana tanto c'è lì scopri l'idea che rivoluziona l'assorbente l'inesidea col rivoluzionario filtrante idea il filtrante idea sta più asciutto e più pulito perché è l'unico a tre strati uno isolante uno a passaggio rapido uno anti umido morbido uniti isolano l'umido della pelle l'inesidea l'idea che rivoluziona l'assorbente cambia musica in ufficio con DOX l'archiviatore tutto colore DOX è un'idea King Mecca si chiama Zucchetti la libertà di fare con l'acqua tutto ci rischiava le pellicerie Mecca vi permettono di realizzare subito il vostro sogno questa volpe per esempio costa solo eh sì questa volta ve lo devo proprio dire costa solo un milione novecentotantamila lire incredibile incredibile sono tutte pellice bellissime morbide leggere anche se a prezzi incredibili ve lo dice Silva Coscina pellicerie Mecca le trovate a Milano Torino Rimini e Cless provincia di Trento interessati anche tu all'allevamento del cincillato la Adita e le cincillati fornisce le famiglie dei graziosi e prolifici animaletti garantendo il ritiro dei cuccioli e la loro sostituzione gratuita in caso di morte o sterilità ogni famiglia è composta da un maschio e cinque femmine ognuna delle quali riproduce da uno a tre animaletti per cucciolata vieni a trovarci a Parma in via Alessandria 7 o telefonaci allo 0521 725 8 2 io faccio il fotografo e quando ho fame vedo tutto bianco e nero quando mi viene un buco nello stomaco mi sento intrattabile quando hai fame scegli qualcosa che sia anche buono con Fiesta ti nutri con tanta bontà mangio una Fiesta e la vita torna a colori mmm mi mangio una Fiesta e divento dolcissima Fiesta ti senta tre volte tanto mangia una Fiesta e la vita ti sorride l'ultima mmm coppa bianca oh scusi ha del ghiaccio si certo dessert coppa bianca può iniziare dalla panna montata divina ecco il ghiaccio e i due bicchiere puoi tuffarti nella crema di cioccolato squisita dessert coppa bianca il piacere che ti manca ferrarelle è piacere sincero perché nasce sincera effervescente naturale senza neanche una bollicina aggiunta né liscia né gassata ferrarelle un frizzo di piacere sincero signore e signori tra breve cena a lume di candela è di rigore lo sguardo Miss Broadway numero 2 3 4 i mille colori della tua bellezza Miss Broadway in casa tua c'è il pulito sicuro certo io uso ogni giorno l'isoform casa e ho pulito sicuro sui pavimenti pulito sicuro sulle piastrelle pulito sicuro su tutte le superfici lavabili pulito sicuro l'isoform sicuro sicuro perché disinfetta in tutta la casa sicuro perché disinfetta in tutta la casa ogni giorno l'isoform casa pulito sicuro perché disinfetta leggere attentamente le avvertenze eccolo arriva è il calcare il calcare graffia e graffio dopo graffio rovina il tuo bucato come rovina la lavatrice non a me io mi proteggo dal calcare con Calford lo aggiungo al detersivo a ogni lavaggio e dissolvo il calcare così proteggo il mio bucato con Calford anche i capi delicati sono sempre bellissimi e durano una vita Calford protezione anticalcare bucato e lavatrice vivono di più l'amaro Petrus ti invita alla buona tavola con la sua guida Petrus preziosa ed informatissima compagna di viaggio che ti porterà a scoprire cuochi famosi sapori dimenticati ristoranti straordinari angoli di sicura genuinità Petrus l'amaro come piace oggi ti invita alla buona tavola nel riflesso nell'ombra nell'impronta l'originale la copia Graficopi seleziona per voi le apparecchiature più affidabili e tecnologicamente avanzate Graficopi garantisce nel tempo tutti i prodotti commercializzati e un servizio di assistenza tecnica qualificato Graficopi moltiplica originale FONZIS non impappatarti croccati con FONZIS bello il jazz vero fa pensare all'America o magari ai parenti agli amici che avete la ma non basta pensarli bisognerebbe renderli felici con una telefonata magari ebbene c'è i tal cable basta fare il prefisso e il numero telefonico e tutto è subito ok oltretutto costa poco pensate che tre minuti in teleselezione con New Orleans costano più o meno quanto un disco ma certo è un'altra musica mmm morbido è nuovo? no lavato con perlana con ammorbidente fammelo provare mmm morbido è nuovo? no lavato con perlana con ammorbidente beh proviamolo ehi che morbidezza è nuovo ma no lavato con perlana con ammorbidente in te te lo prendo. Che morbidezza, è nuovo? No, lavato con perlana. Con morbidente, me lo presti? Perlana, nuova morbidezza a mano e in lavatrice. Passaparola. Il pettine nero, la prova più severa per vedere se hai la forfora. Accidenti, sempre forfora. Certo, perché tu non usi shampoo antiporpora libera e bella. Libera e bella, usato regolarmente, ti libera dal ristagno della forfora. Uno, due, tre, vedi? Niente forfora, sul pettine nero. Perché libera e bella ti libera dalla forfora e ti fa bella, veramente bella nei capelli. Shampoo libera e bella, l'antiporfora a prova di pettine nero. Faccia lei la prova vino, signora. Io ci provo, ma tanto. Ti ha visto? È impossibile. Ma allora quello non è scottex casa. Provi con un vero scottex casa. Bicchiere. Vino. Ecco, guardi come assorbe. Provi ora con scottex casa, signora. Però, è vero. Ha visto? Questo è scottex casa. Questo no. Scottex casa assorbe e non si sbriciola. Altro che un pezzo di carta. Giocchito, buonito, dolcito. Così fruttante, così bacito. Cio, cio, giochito, con gusto squisito. E' arrivato, giochito del set. Cioccolato, riso, buon che saporito. E' un dolce pito a te. Crepito tanto te. Pile, credito che sfacchito hai con te. Buon buon bonito, giochito del set. Giochito. Buonito. Capito? Quando i mulini erano bianchi. Prendi la crostata. Prendi la piccina. Ecco una merenda sana e genuina. La crostatina del mulino bianco Barilla. Il signore vuole un balsamo. Uno. Anche la signora vuole un balsamo. Biscotti balsamo. Un istante di piacere lungo cento anni. Oggi mamma mi fa le lasagne. Lasagne. Ma oggi non è domenica. Sì tesoro, stasera risotto alla pescatora. Risotto alla pescatora. Oggi. E sì, tutti i giorni è domenica. Con le specialità dei bon gustari. Da Fingy. Gabriella Dorio, campionessa italiana di mezzofondo alle Olimpiadi. Una donna attiva che cura del proprio corpo. Il suo deodorante? Rexona. La naturale sicurezza di un grande deodorante. Rexona non ti pianta in asso. La natura, tu puoi vivere. Kinder Cereali è per te. Venite, mangiamo qualcosa. E da quando mangi cose dolci? Da quando c'è Kinder Cereali. Trovalo. Orzo, riso, mais, frumento e tanto latte. Cose buone della natura. In Kinder Cereali diventano un cioccolato leggero e nutriente. Kinder Cereali è per te. Kinder Cereali. E sei in forma. Chi è quest'uomo? Di lui si sa che ci tiene al suo corpo. Di lui si sa che ci tiene alla sua pelle. Ci tengo sì. Mennen la ammorbidisce e la rinfresca. Non mi sembra di aver finito di radermi finché non ho usato Mennen. Chi è quest'uomo? Di lui si sa che ha cura di sé. Mmm, che pelle morbida. Sai di buono. Mennen. Per uomini che hanno cura di sé. I'm not for you. Per fare di un micino un vero gatto ci vuole Kitekat. Dopo lo svezzamento Kitekat gli dà le proteine, i minerali e in più tutte le vitamine che gli servono. Un nutrimento equilibrato al 100%. Tigre, sei bellissimo. Dopo Mamma Gatta ci pensa Kitekat. E' buono. E' buono. E' buono sì. E' la pazza. No, che è la pazza. E' la pazza. E' sì, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere. E' il suo. E' la pazza. Buono, buono. Sfido che è buono. E' qualità oro la pazza. Nel pacco da 200 e in quello da 400 grammi. Gustalo con la bellissima caffettiera carmessita. Poi la pazza è più lo vanti giù e più ti di adesso. Ora il tuo Commodore 64 diventa il tuo insegnante d'inglese personal. Computer English. Impari a scrivere e a parlare un perfetto inglese. 33 programmi, 33 fascicoli, 15 cassette per la pronuncia. Realizzato da Beatrice Veste in collaborazione con Zanichelli. Giochi? No, imparo l'inglese. Prendi, prendi, cristallina, strappa, strappa, versa, versa, cristallina, tappa, tappa, bollicine, 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 gira, cristallina, strappa, strappa, bevi, bevi, cristallina. Dalla fonte di casa tua, l'effervescente simpatia di cristallina, la tua acqua da tavola. Chi ha mangiato la confettura è? Chi sarà? Il papà a fine cena. È vero. Confetture Santa Rosa, brutta fresca a pezzettoni. Piace anche ai grandi. Confettura Santa Rosa, piace anche ai grandi. Video Explorer Philips, caricare, puntare, azione, cattura l'avventura. Video Explorer Philips, telecamera più videoregistratore integrati. Cattura l'avventura e la rivedi subito. Video Explorer Philips, ora anche Compact. Sai dov'è la casa del diavolo? Tra una piastrella e l'altra. Eccolo di quel diavolo di sporco. Nei detersivi, lui ci sguazza. Lo spazzolone, gli fa il solletico. Ma oggi tu hai 100 gradi. La forza viva del vapore. 100 gradi arriva sullo sporco e l'oggi sgrega. Il grasso si sgrassà, le macchie si smacchiano. 100 gradi, il vapore garantito Fisselden. Da oggi con pulistiro gratis. Bim, bum, bam. Nonna, nonna, raccontami la storia di orzo bim, bim, bum, bam. Nel campo di orzo bimbo abitano bim, bum e bam. E nel campo cosa fanno? Quando l'orzo è quasi maturo, va difeso da un trepile nemico. Gramigna, la strega maligna. La gramigna del caccia, orzo puro retina. Adesso nel campo di orzo bimbo c'è solo orzo puro, che è anche più buono. Orzo bimbo, tutta natura, pura bontà. E da oggi una gomma in ogni confezione. Tonno insuperabile, 170 grammi di bontà in olio d'oliva. Per dare più sapore ai miei sapori, io ci metto tutto il mio cuore. Prima cosa, nasce il buco. Secondo, passa la frescosità. Polo. Polo, il buco con la menta intorno. Graffic di Garnier, voglia di riccioli? Sì, ecco l'Inventaricci Graffic. Vaporizza, arrotola, arrotola, arrotola. Ancora un po' di spray. È una tecnica tutta nuova per essere tutta riccia. Inventaricci Graffic di Garnier. Fai da te, con Groffic. Winchester. Un mito che ha vinto il tempo per essere oggi uno stile irrinunciabile. L'unico, l'originale. Solo per gente come te. Winchester, l'originale. Sole, sete. E' stata te. Tè, limone e niente coloranti. Dissetante non gassato. Dissetante per natura. E' stata te, Ferrero. Uffa, non ne posso più. Vedete? Via questi tesi. Cosa fa? Ecco il nuovo Vernel 3. Un Vernel così piccolo. Non mi basta. Ed è qui la novità. Vernel 3 è tre volte concentrato. Così ogni tappo vale ben tre tappi di Vernel normale. E allora? Giusto lei. Era ora. Proprio comodo il Vernel 3. Un flaconcino così piccolo. Come la... Dentro così tanta morbidezza. La morbidezza è imbattibile di Vernel. Questo l'avrei detto io. E beh... Roma. 300 avanti Cristo. 2000 anni e nulla è cambiato. Pecorino romano. Da 2000 anni. Come piace oggi. Un formaggio saporito. Sano. Di carattere. Solo questo marchio garantisce il vero pecorino romano. Sofficini. Metti in tavola un sorriso. Metti in tavola allegria. Un sorriso, un sofficino. Che sorrisi, mamma mia. Perché hanno il sorriso dentro i sofficini. Sofficini Findus. Il piatto ricco con ripieno. Il casco Nava non è obbligatorio. Ma Nava è così leggero. Comodo. Arioso. E con visibilità totale. Nava protegge con più sicurezza. Garantito Nava. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 pollici. Radio Marelli, la grande televisione italiana, è diventata più grande. Signore e signori, Radio Marelli presenta il 33 pollici digitale stereo. Grande tecnologia, grande affidabilità, grande estetica. Per vedere la grande, le televisioni devono essere per forza anche straniere? Oh no. Radio Marelli, scienza e fantasia italiana. Lo sai che puoi combattere la tua tendenza ai brufoli lavandoti tutti i giorni? Ma un normale sapone può non bastare. Ecco la prova. Immagina di lavare metà faccia come fai di solito e l'altra metà con Clerasil Lavaggio Dermoattivo. È nuovo. Visto cosa succede dopo qualche settimana? La schiuma attiva di Clerasil ha fatto la sua parte. Pulendo i pori e purificando la pelle. Contro la tua tendenza ai brufoli, Clerasil Lavaggio Dermoattivo. Ma com'è questo diciotto? Forte di erbe. Mmm, che forte il diciotto. È il diciotto? È forte? Il diciotto. È forte ma di erbe. Mmm, che buono questo diciotto. Con Amaro Diciotto, forte di erbe, partecipa al grande concorso Amaro Diciotto Mundial. Sai già la grande novità? Oggi c'è anche coccolino concentrato. Tre volte concentrato. Più pratico, no? Guarda, con solo un terzo di dosaggio ti dà tutta la morbidezza di coccolino. Sono io, coccolino, e ti dò la morbidezza di sempre. Sì, ma c'è un vantaggio. Coccolino concentrato costa molto meno. Coccolino concentrato. La morbidezza di sempre ancora meno cara. Prego. Mi perdoni. Perdonatissima. Un aperitivo? Grazie. Un San Pellegrino Bitter. Due San Biter. San Biter? Oui, San Pellegrino Bitter, San Biter, c'è più facile. È vero, è più facile. Prego, un'oliva è un San Biter e il mondo è ai tuoi piedi. Mario, un San Pellegrino Bitter. San Biter, c'è più facile. Oggi ho scoperto un modo asciutto di cambiare aria. È Gled Aria Nuova Dry, il primo deodorante spray asciutto. Guarda, questo è un normale deodorante. Questo è Gled Aria Nuova Dry. Non bagna e non lascia aloni. Così posso usarlo ovunque, anche su divani, tende e avere per molto tempo un fresco profumo. Allora, perché non spruzzare asciutto? Per cambiare aria, Gled Aria Nuova Dry. L'unico fresco nell'aria, asciutto sui tessuti. Come in. You're Blackjack, sir. Blackjack, malt or blended, sir? Malt, Edward, please. Blackjack, malt, sir. You're a whiskey. A first glass whiskey, Blackjack. Blackjack, malt and blended. Whiskey di sangue blu. Invecchiato e imbottigliato in Scozia. Edward! Vieni a scoprire il sapore di un paradiso. Vieni a scoprire il sapore di Bounty. Bounty è polpa di cocco fresca e tenera, ricoperta di buon cioccolato. Vieni a scoprire il sapore di Bounty. Fresco, tenero cocco e buon cioccolato. Bounty, il sapore di un paradiso. Che dici? Ci prendiamo una pausa? Musco, frutta a vita snella. Snack magro. Solo 120 calorie. Cos'è? Una delle tue ultime scoperte? Beh, leggera e leggera. Ecco la frutta. Ed è anche cremosa. Eh, se non ti conoscessi bene, non ci crederei che è così magra. Musco, frutta a vita snella da noi. Pesatevi con gli occhi. Musco, frutta a vita snella da noi. I tesori della natura. In un'immensa piana dorata dal sole, dove il terreno è forte e generoso, crescono dei fagioli borlotti eccellenti. Bianchi, striati di viola, farinusi e pieni, noi del cuore verde li chiamiamo i gran borlotti imperiali. E se per un solo fagiolo mettiamo un così grande impegno, pensa quanta cura abbiamo nello scegliere tutte le altre verdure del tuo minestrone cuore verde. Solo il meglio è cuore verde. Da Fimdus Spunti, nelle due varietà. Alla carne, per il fuoripasto appetitoso. Al tonno, per il fuoripasto gustoso. Ehi, che sostanza! Nuovo dalla Simmental Spunti, il nuovo modo di fare lo spuntino. Aiazzi è tutto nuovo, sì, è nell'igiene che più nuovo è. Poi la grande novità, brilla tutto e nessun sciacquerà. Mai più il risciacquo e il secchio, dimentica lo sporco vecchio. Pulito e igiene senza fattica, Aiazzi è leggeabilità. Pulito e igiene senza risciacquo, Aiazzi. Igiene sì, fattica no, Aiazzi. Quando, quando, leggero come un uovo. Il nuovo assorbente, quando, lo trovi solo in farmacia, perché ha la qualità da farmacia. Krups, in cucina, ha sempre un'idea in più. Krups Mixet, una mangiona che vuole tutto ben tritato. Il formaggio, di cui è golosissima. La carne, che tritta in pochi secondi, per non parlare degli aroni. E le cipolle, Mixet, le taglia senza piangere. E la frutta secca, mmmm. E in più, le frullano in testa le idee più dolci. Krups Mixet. Dalla collezione Shampoo El Seve, L'Oreal presenta El Seve Balsam. Lo shampoo ad effetto balsamo, che dà ai tuoi capelli la lucentezza della seta. El Seve Balsam, così crepuso, li rende morbidi e più facili da pettinare. El Seve Balsam, dalla collezione El Seve. Quattro shampoo cosmetici, che ti trattano dolcemente. La bellezza di stare bene. Yomo, intero, doppia panna e magro. E yogurt, ma soprattutto, è Yomo. Un nome che vuol dire grande qualità e tradizione. Yomo, ricco di milioni e milioni di benefici fermenti lattici vivi. Un alimento puro e salutare. Il piacere è di gustarlo e di sentirsi in forma. Yomo, intero, doppia panna, magro. E yogurt, ma soprattutto, è Yomo. L'importanza di un nome. Tigre. Quel buon sapore. Di M.T. al Svizzera. La tradizione. Di genuinità. Tigre. Fanno di tigre. Un formaggio fantastico, sano e leggero. Tutto qualità. Fettine tigre. E un buon sapore. Di M.T. al Svizzero. Che dai più piatti. Quel tocco in più. La famosa tradizione tigre continua. Ah, questi giovani. L'amore, la ragazza. Poi, basta un niente e... Ma guarda come sta giù. Anche quando sei lontano, c'è sempre un modo per ritornare da chi ami. E allora, fai una telefonata. È il gesto più semplice, più naturale per ritrovarsi. Per stare insieme. Per sentirsi vicini. Il caletto, la tua voce. Il caletto, la tua voce. E spari tutto il meglio che c'è. Arriva il pesce. Se è tonno, potrei farlo al forno. Oppure ci sono tanti modi. Uno più gustoso dell'altro. Al tonno, aggiungiamo acqua e sale. Pensa a una ricetta. Palmera, ti porta il pesce più gustoso, conservato al naturale. In acqua e sale. Palmera, alimentari del mare. Pulire e lucidare le scarpe di tutta la famiglia. Che fatica! Uff! Ma oggi c'è Polifix. Basta passare Polifix e subito la scarpa risplende. Polifix è alla lanolina. Questo è il segreto. Polifix ha la lanolina, ha cura della pelle delle scarpe e le mantiene morbide. E basta una passata di Polifix alla lanolina per far risplendere le tue scarpe. Questa è vita per me e anche per le mie scarpe. Polifix alla lanolina lucida e protegge le scarpe. Rimmel Ne mangio mille al giorno, vuoi sapere perché? Sei tutta naturale, niente è meglio di te! Hai poche calorie, giuste giuste per me! Quando non ti sento a tremo svengo sai perché! Liquidizia pura, questo è un sogno per me! Che rabbia se mancassi se non fossi con me! Voglio esprimere tutto il mio apprezzamento per nuovo Vidal sempreverde doccia shampoo, una schiuma giustamente moderata, con la pelle, ma che non scende a compromessi e saprà dare alla nazione tutta l'energia di cui ha bisogno, perché non basta avere le mani pulite. E chi te l'ha detto? Me l'ha detto la mamma. Lo dicono tutti, i freschi delicati sono solo Vidal. Nuovi sacchetti Supergelo Domopunk. Aderenti, forti, fortissimi, ancora più resistenti a strappi e forature. Nuovi sacchetti Supergelo Domopunk, intorno ai cibi, con amore. Cento bollicine e una stella, da San Pellegrino, 101. Per domenica ci piacerebbe avere un vassoio di Millefoglie. Signora Vicenzi, da Venezia. Oh, scusate. Signor Prefetto, come è andato il ricevimento? Ottimamente. E devo dire un grazie speciale ai suoi Millefoglie. Dalla preziosa eredità di Matilde Vicenzi, Millefoglie d'Italia. Sfoglia di solo burro, un miracolo di leggerezza. Per voi oggi, i biscotti di casa Vicenzi. Stai comprando un computer? Comprane due. Il fantastico portatile Amstrad, MS-DOS, floppy da 3,5, schermo regolabile LCD. E l'incredibile Amstrad PC 1512, MS-DOS, floppy da 5,5, 512 KB run. PPC 512, PC 1512 e I'm Link. Collegali insieme e scopri la libertà di un sistema globale. Con poco più di 2 milioni. Senza paragoni. Amstrad. Ah. Presto, presto, sei in ritardo, devo ancora depilarti. No, grazie. Io per depilarmi uso EpiLady. Non vorrei usare un rasoio. Non è un rasoio. Idei efficaci come la ceretta. Vedi? Sì, con EpiLady il problema di epilazione è risolto. La sua morbida spirale aggancia il pelo e lo elimina la radice. E quello cos'è? EpiLady. L'epilatore, pratico come un rasoio, ma efficace come la ceretta. Ma perché non usi TilFly? TilFly, l'assorbente ascellare, facile da applicare, che protegge i tuoi abiti, invisibile. Che non fa infiltrire la lana, morbido e pratico. Anche per gli indumenti di mio marito. Con TilFly, non più aloni, né abiti rovinati. L'insolvente più potente. Lo sgrassante più astringente. E di polvere in fustino versiamo dentro al lavandino. Dentro quale mani metti questa acqua per il piatto. L'olio denso di insalata. Una pentola incrostata. E del grasso di borcello. Noi sciogliamo nel labello. Le tue mani rischiano cattivi incontri. Per questo Marigold ha creato i guanti adatti per tutti i lavori di casa. Marigold protegge le tue mani dai cattivi incontri. Marigold. SEL SERVICE SEL SERVICE E' SU COSI SI FA Rifornimento in un momento. E' così facile. Spinge un bottone. Tutto elettronico. Che precisione. SEL SERVICE E' SU COSI SI FA Anche da solo è tutto pronto. Vai alla cassa e con lo sconto. E l'assistenza qui ti dà il meglio. Controlli tutto. E cambi l'olio. Con special diesel e super oil. Qui trovi tanti lubricanti. Al tuo servizio. Qui c'è il progresso. SEL SERVICE E' SU COSI SI FA Goldoni. Forte come la roccia. Per lavorare la tua terra. Goldoni. Il produttore leader in Europa di macchine per l'agricoltura specializzata. Sono pratiche e maneggevoli. E permettono di lavorare in ogni tipo di coltivazione. E non ho più problemi di spazio. Ecco la grande famiglia Goldoni. Una grande qualità. Al servizio dell'agricoltura specializzata. Pippo proviamo? Sì. Allora tu che stai al piano di sopra dici a me che sto al piano di sopra. Scusi sono le 4 del mattino ma che cos'è tutto questo baccano? E' la registrazione della festa che avete fatto ieri sera. Poi non me lo ricordo devo leggere. Pippo prendi il tuo sao. Ah sao caffè. Una delle due cose buone della giornata. E l'altra? Un altro sao. Perché io per il caffè c'ho naso. Fa un caffè che ritrovi la parte migliore di te. C'è un posto in Italia dove puoi trovare l'hamburger preparato secondo la ricetta tradizionale americana. Questo posto è burro. C'è un dentifricio che ha preso una strada efficace per proteggere denti e gengive. Si chiama Defend Complex e va a diritto al problema. In bocca la placca batterica dà problemi alle gengive. Ma l'azione igienica di Defend Complex e il tuo spazzolino ti aiuta a mantenere gengive forti e a proteggere i denti dal tartaro. Per denti e gengive è il benessere. Defend Complex. La forza delle gengive. La vita dei denti. Se un dado fosse troppo forte sai di cosa saprebbe il tuo minestrone? Di dado. E il tuo pollo? Di dado. Dado Knorr è un dado che sa fare il dado. Perché arricchisce il sapore dei tuoi piatti senza coprirlo. E papà guarda un pollo. Dado Knorr un dado che sa fare il dado.